Ciao a tutti e benvenuti a questa Pills dei Magis of Lotus Newspaper nella quale facciamo un recap di tutte le notizie che sono state in quest'ultimo periodo perchè ce ne sono troppe, giustamente non sappiamo, i vogliamo bene lo stesso ma non guardare tutti i nostri video perchè sono troppi noi stessi non guardiamo tutti i video che fanno l'altro e quindi niente, essendo che sia questo, sia che comunque la wizard sta facendo troppa roba davvero troppa, facciamo questi Pills per appunto fare un recappone un motivo per cui fanno così tante cose, comunque l'Asbro ha annunciato che voglia praticamente fare un 50% di più di guadagni quindi ci sta, fanno talmente tanta roba di magic che ci riempiono e fanno talmente tante cose good value che è impossibile diciamo che non le compriamo allora, la prima è che ovviamente uscirà The Brothers War, ci sono già insetti degli spoiler abbiamo fatto un video sulla prediction di cosa ci fosse dentro, bene o male ci abbiamo azzeccato dovete ancora aspettare però 10 giorni, a meno da quando registro, registro il 17 di ottobre non so quando uscirà questa Pills, probabilmente un po' di meno di 10 a questo punto ma inizierà la full spoiler season dal 27 quindi dovete ancora aspettare un po' per vedere tutte le belle bombe meccaniche di questo set poi festa dei 30 anni di magic allora, sicuramente questo l'avete sentito se no state vivendo sotto una roccia e una caverna scura senza nessuna connessione internet hanno fatto questo prodotto dei 30 anni di magic, praticamente ristampano alfa e beta tipo, sono uno di due, adesso non mi ricordo comunque, alfa i primi set, scusate e praticamente però c'è una fregatura, tra virgolette nel senso che non è che sono, ovviamente, ovviamente bypassano la riserva di liste, bypassano il fatto di poterle ristampare quindi non rompere la promessa perché sono carte non legale ai tornei hanno il retro non di magic è praticamente come se fosse una seconda collector edition di quella che era uscita ai tempi a bordo dorato questa è praticamente quasi la stessa cosa però il problema è che un box di questa roba vi costa 1000 dollari e quindi sì e tra l'altro non è detto che trovate quello che volete perché avete 4 buste, in 4 buste non aprite tutto il set aprite delle carte a caso e sperate di trovare le dual e le P9 che però tanto non sono giocabili quindi sono delle proxy glorificate hanno annunciato vari secret layer questo dei 30 anni è anche molto bello sono 30 carte, fa tipo calendario dell'avvento e me l'aprite uno al giorno da quanto a un promesso dovrebbe arrivare a tutti visto che lo fanno molto limitato entro il primo di dicembre in tutto il mondo vediamo se sarà una promessa che riescono a mantenere perché comunque vedendo l'andazzo che hanno avuto con il secret layer e i problemi di produzione mi sembra un po' utopistico però magari ce la fanno per davvero, ci fanno la sorpresa sempre parlando di tema secret layer abbiamo fatto la live ieri ma per chi fosse persa non riesce a guardarla per un video di un'ora bla 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 abbiamo un recappone sui secret layer di ottobre allora c'è Junji Ito un grande mangaka horror ha fatto delle cose molto creepy andate a vedere le sue opere in caso se non lo conoscete che ha fatto appunto questo secret layer tematica oscura quindi dark, creepy talk side doomsday con questa art molto evocativa e molto creepy carrion feeder che è appunto se vedete questo zombie che sta mangiando facendo il banchetto al cimitero playcrafter che anche lì in questa versione molto cattiva con questa persona con tutti i buboni addosso molto bello poi abbiamo questo di post malone che sono ben due post malone praticamente che è la combo con il suo Kirk Sun of Yagmoth però con i nomi alternativi infatti post Sun of Reach post Citadel che serve poi la bolla Citadel c'è il medaglio eccetera e non sto qua a discutere il value se no il video viene lunghissimo poi le terre di post malone praticamente gli artisti sono ovviamente non è post malone che la ha disegnata sono artisti di magic anche alcuni famosi e post malone però nei crei dell'art perché lui comunque ha fatto gli sketch sotto quindi la sua firma più il pasticcino qui si diciamo che non ha contribuito enormemente però ci sta poi abbiamo Yoji Shinkawa che praticamente è l'art director se non sbaglio di Metal Gear Solid comunque fa parte dell'art di Metal Gear Solid infatti sono carte con quello stile lì molto bello perché l'art minimal con tutti questi poi schizzi diciamo di Metal Gear Solid sono davvero bellissimi quindi very very good poi abbiamo Beyond the Star che sono appunto questo no sick 3 con delle carte particolari con questa arte un po' strana poi abbiamo If Lux Could Kill che sono queste carte con degli aspetti molto molto fighi molto bump molto come se fossero dei modelli mi piace very good di punto di vista artistico poi abbiamo Warhammer sempre quindi una cooperation tra Wizard e Games Workshop anzi in realtà sono due il primo è quello degli orchi perché gli orchi comunque ci sono nel mondo di 40k e ci sta però sono non versione di carte nuove sono carte proprio di Magic o con il nome alternato quindi il nome sotto quello che conta per davvero o carte vere e proprie di Magic proprio paro paro come Gravity Assault poi abbiamo il secondo che è invece quello di Age of Sigmar e se è identica cosa non cambia per esempio vede l'Arconte Ever Chosen che in realtà è Nagila e e altre carte che appunto hanno il nome che però che conta per quanto riguarda Magic quello scritto sotto sopra è solo diciamo un titolo fa Flavor Text e poi abbiamo Blood Bowl che è un gioco da tavolo molto interessante ma so che circola tantissimo tempo Blood Bowl perché io mi ricordo che quando andavo già ancora a giocare a Magic a Moncalieri quindi parlo di secoli fa c'era già Blood Bowl mi pare comunque poi non l'ho più calcolato sinceramente però very very good poi abbiamo the weirdest pets in the multiverse praticamente i pet più strani infatti mette delle i padroni con i pet strani come ad esempio Whisper con questo suo pet bruttissimo e tutti quanti i padroni con questi pet molto molto brutti che hanno però ci sta poi abbiamo Totally Spaced Out che praticamente sono invece delle carte fatte in versione space che comunque ci sta perché stiamo uscendo da Infinity che è tutto quanto basato sullo spazio ultima notizia poi fine di questa pils e c'è stata anche la banlist questo questo che magari lo sappiate ma di nuovo ma alcuni magari non ha calcolato perché non è stata una banlist che ha creato grande uproar Mythook Massacre bannato in standard ci sta perché tanto sta per uscire e ci sta bene a far un po' nero io ho riembannato in modern per motivi vari ed eventuali che non sto qua riprendere perché sono davvero tanti anche se potevo cioè non solo per la forza ma anche altri e c'è il nostro video in caso da te lo vedere l'ho fatto apposta e niente ragazzi è tutto per questa pils newspaper recappone ci vediamo al prossimo video come al solito e fate i bravi ciao ciao